La prossima volta recensiremo tre pacchetti di patatine, come ho visto il video di Bladeway che saluto che ha aperto il pacchetto delle patatine rumene. Se dimenticavo, nel video che è girato due settimane fa della San Carlo Junior le patatine senza glutine, in ogni confesione al minitore a Tali Sonic, ho trovato anche Taze, guardate. Quindi concludiamo sempre, come nella scorsa serie delle patatine di San Carlo Junior dei lanciatori, concludiamo sempre con Shadow e Taze. Ma prima, sigla, che ci aspetta una bellissima nuova collezione della San Carlo Junior, e forse, forse ci sarà una nuova serie del McDonald's che farò una recensione, e Kinder Joy, DC, Super Hero Funko Pop da due da recensire, sigla! Ciao a tutti amici iscritti, e benvenuti sul canale di Paolo Paolinov. Oggi andiamo a recensire una nuova collezione delle patatine San Carlo Junior. San Carlo Junior, le patatine senza glutine, come sempre, e sono del film, secondo capitolo della saga. Puff Patrol, il super film, guarda che bello in italiano. In ogni confessione, una pallina ribalsina, dove c'è raffigurato Sky. Qua dove è raffigurato, nella copertina, Sky, in versione Paolo Patrol, super, qualsiasi cosa, e anche Chase, in qualcosa di super, qualsiasi cosa. Qua c'è una serie, una collezione della serie di Puff Patrol, in ogni confessione, una pallina ribalsina. Prima che trovate i supermercati, questo l'ho trovato nel market di Maracalagoni, se non a Isa, appunto di vicino. E prossimamente tornerà anche la spesa di Paolo Paolinov, se volete. E la quinta serie, della serie di Puff Patrol, ma in verità, Puff Patrol ha... Due, tre serie, quella della serie originale, e due di due dei film. Qua c'è la serie. Prima leggiamo. Rivivi le emozioni del superfilm dei Puff Patrol, con le divertenti palline ribalsine, in cinque personaggi e colori. Collezione di tutte e cinque. Qua ha fatto anche altre serie, come quelle di Inside Out, e quelle di Cars. Qua si può vedere, tipo i Tintas Go, avete capito, della San Carlo Junior 2023. Questa serie è del 2023, giusto. Quello dei maschi c'è Marshal, guardate che bella la pallina di Marshal, lo voglio, quella rossa. Con i brioscirini, vabbè. Sono delle palline ribalsine con il colore blu. E con l'immagine di un cucciolo. E con il coso trasparente. Con i disegni, come succede per le altre serie che fa Chase. Rubble. Sky. E quella nuova, nuovissima, Liberty. Che anche noi lo vogliamo. Ma, purtroppo, ne prendiamo solo uno, come quelle delle Wings. Vero, Teddy? Sì. E con il marchio Nickelodeon. Speriamo che la San Carlo Junior facesse una seconda serie anche di SpongeBob. Quest'anno San Carlo Junior ha migliorato con le patatine. Ha messo anche quelle di SpongeBob con i Trick Tracker Anocadini. Speriamo che qualche serie di SpongeBob arriverà per la San Carlo Junior. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato... Marshal. Ho trovato una casa, ok? Questa ha prodotto da Eurosystem. Non da quell'idiota delle Morgan. Basta, basta le Morgan di produrre le patatine delle sorpresine come ha fatto quelle di Sonic. Sono prodotte da Eurosystem. Via, si hai, che avete capito. Qua, guarda che bel logo. Bustina 7 raccolta plastica. Poff Patrol, Maggie Movie. Poff Patrol, i super film in italiano. San Carlo Junior. E così. Queste palline, allora, analisero. Come hanno fatto per le scorse serie, quelle di Cars, quelle di Inside Out e quelle nelle calze della Vefana, di Miraculous, che c'erano queste palline e ribalsine qui. Sono di plastica, come sempre. Hanno dei brillantini e si può ribalsare e sono così carine le patatine. Se qualcuno troviamo le doppie o qualcuno se hanno le doppie di questi altri personaggi qua... Peccato, io vorrei trovare Rubble e Liberty, peccato. Anche Chase, anche Chase è carino. Terris e Katus, qual è il personaggio preferito della Poff Patrol? Il mio è Rocky, perché non c'è Rocky nelle patatine? Il mio è Chase, guarda come è carino Chase. Ma abbiamo trovato Marshall, quindi è una fortuna. Guardate, la cartina ha cambiato di carta. E' messo la patina ribalsina da qui. Te lo ricordi le altre serie delle patatine della Poff Patrol? Avevamo trovato tre personaggi di... Due doppioni di Everest e Sky. E abbiamo preso sempre una sola patatina. E stavolta abbiamo preso le patatine, ma non sono uscite tre sorprese. Abbiamo trovato Marshall. Adesso, vabbè. Iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e commentate in le collezioni di Paolo Paulineuve. E ci vediamo al prossimo video delle collezioni di Paolo Paulineuve. Dovevamo recensire anche KinerJoy da due Digi Super Eos Funko Pop. Sette pronti? Vediamo se lo recensirò. Ciao a tutti! Poff Patrol, oh oh Poff Patrol, oh oh Poff Patrol. Mmmmm. Grazie.